Buonasera e bentrovati. In apertura un cenno alle dinamiche che riguardano il Città di Varese. La squadra di calcio Biancorossa, che complice le dinamiche piuttosto sorprendenti e acrobatiche relativa ai ripescaggi in Serie C, potrebbe appunto approdare nel prossimo campionato a questa categoria. Molto dipende dalle prossime evoluzioni dei ripescaggi, in parte però oggi il Comune di Varese ha fatto la sua parte approvando all'unanimità una delibera che stanzia 150 mila euro per i lavori di adeguamento dello stadio Ossole, in modo che l'impianto eventualmente possa farsi trovare pronto e adeguato per la Serie C. Lo conferma l'assessore alla partita Stefano Malerba, che ribadisce così il convinto supporto del Comune, unica clausola 30 mila euro di cauzione versata dalla società al Comune di Varese, verrà restituita ai Biancorossi in ogni caso, unico paletto è che l'iscrizione avvenga davvero, poi vada come vada. L'iscrizione costa peraltro un milione di euro che gravano appunto sulla società Biancorossa, quindi non stiamo parlando di poco conto. In bocca al lupo al Città di Varese. Adesso invece il ringraziamento alle fontanelle, l'area simbolo della lotta al Covid, il centro tamponi che per tanti, tantissimi mesi è stata anche protagonista delle nostre cronache, visto che il Covid costringeva migliaia di persone a fare lunghe code alle fontanelle e decine e decide di volontari a gestire, smistare, proteggere, e mettersi a disposizione. Proprio loro è arrivato il ringraziamento delle istituzioni in una cerimonia che ha avuto luogo oggi e che vi raccontiamo. Della maledetta pandemia resteranno tante cose brutte, le vittime e il dolore, la solitudine, le chiusure, i volti travisati, gli occhi smariti, il fiato corto e la macabra quotidiana, contabilità. Ma resteranno anche il sacrificio e il coraggio, la dedizione e l'impegno, lo sforzo, la generosità, l'abilità organizzativa. Proprio come rappresentato e riassunto oggi alle fontanelle, luogo simbolo della lotta al Covid, centro tamponi che ha mietuto, code e cortei, rituali e controlli, attese e paure. Guido Bertolaso, commissario della campagna regionale, ha voluto ringraziare tutti coloro che nei terribili due anni in quell'area hanno davvero fatto la differenza. Con lui c'erano il vice presidente della provincia Alberto Barcaro, alcuni parlamentari, consiglieri regionali del territorio, i sindaci, i militari dell'esercito. Di fronte i volontari di protezione civile, protagonisti di una battaglia condotta con energia e costanza, come documentato da questo video, realizzato proprio da loro durante i due anni e nei tanti momenti significativi che ne hanno scandito gesti, passi, minuti e secondi. Un enorme grazie a loro, nella consapevolezza che tanto ci è stato portato via, ma che molto altro, grazie a queste donne e a questi uomini, ci è stato regalato. Protesta in corso a Samarate, colpa di cattivi odori e anche di Baccano. Vediamo di più. Terrorizzati dall'idea che possa essere realizzata una vera e propria discarica a pochi passi dalle loro case, sono i cittadini di Via Beata Giuliana, a Samarate. A partire dal primo di giugno, una nuova azienda di smaltimento rifiuti, ha preso servizio per i comuni di Samarate e di Cardano al Campo. La base operativa dell'azienda è proprio a Samarate, in Via Beata Giuliana, negli spazi della vecchia tintoria Schiavini, inattiva da più di vent'anni. Nel giro di 24 ore, dicono i residenti della via, sono stati portati qui i mezzi per la raccolta. Dal mattino successivo hanno iniziato a lavorare, con il conseguente aumento del traffico, il passaggio di mezzi nelle prime ore della mattina e l'odore della spazzatura, che inevitabilmente si diffonde in tutta la zona. E se questa diventasse a tutti gli effetti una discarica? Si chiedono i residenti. Il valore delle nostre case scenderebbe vertiginosamente. Chi comprerebbe mai un'abitazione davanti a un'isola ecologica? Siamo in una zona residenziale e quello che è un deposito di mezzi rischia di diventare effettivamente una sorta di mini discarica, una zona in zona residenziale, insomma. Con poi anche già tanti disagi che si stanno manifestando. Ovvero, cosa capita? Ovviamente chi esce per fare la raccolta rifiuti non esce tardi al mattino, ma verso le 4 e mezza. Poi ora che è estate con finestre aperte, si incominciano subito ad avere molti rumori, con l'occupazione anche della strada pubblica, perché comunque spesso anche durante la mattinata si fanno base in questa via per raccogliere con i mezzi più piccoli, sversare sui cammi più grandi, per poi riportare in discarica la carta o la plastica a seconda della raccolta. Il pericolo è quello che poi potremmo trovare potenzialmente di fronte, ripeto, a una sorta di ricicleria di discarica, perché comunque lavando i mezzi quotidianamente qui di fronte si possono attirare anche con i residui di cibo, soprattutto penso alla frazione umida, magari di animali che possono arrivare. Qua vicino c'è la famosa arnetta che comunque è già una situazione abbastanza conosciuta. E quindi poi avendo anche dall'altra parte una discarica, il nostro timore è che ci siano poi parecchi disagi, oltre a quelli che ho raccontato, del rumore o delle situazioni che ti stanno cominciando a verificare. Tanto traffico qui la mattina, i rumori, i camion che vanno avanti e indietro, quindi non è più come prima. Prima si stava tranquilli, invece adesso c'è un via vai di camion e poi anche danno fastidio. Perché se fanno un'esola ecologica qua, le nostre case qui perderanno valore senz'altro. Quindi di questo qui siamo preoccupati. Le nostre richieste, concludono i residenti, vanno al sindaco. L'azienda ha tutto il diritto di lavorare. Ma perché collocare il centro di distribuzione proprio qui, in mezzo a delle case? Da parte nostra noi abbiamo già inviato una PEC al Comune di Samarate, contestando non tanto l'appalto, che ovviamente sarà stato condotto in modalità precise e puntuale alla legge, quanto soprattutto nei termini dell'installazione in una zona ovviamente residenziale, contestando la scia, la segnalazione di iniziatività della società, proprio in quanto in zona, secondo noi, residenziale assolutamente non idonea. Ultimi fuochi di campagna elettorale. Domenica si vota per il referendum sulla giustizia, ma anche per alcune amministrative. Tra queste la più significativa del nostro territorio riguarda la città di Cassano Magnago. abbiamo cinque i candidati sindaco in campo, ve li abbiamo presentati tutti nell'arco della settimana. Oggi tocca a Rocco D'Abraio. Cassanese da sempre, sposato, padre di tre bambini, Rocco D'Abraio si presenta agli elettori forte dell'esperienza maturata come imprenditore e come esponente associativo di rilevo nazionale. Con lui la formazione civica Progetto Cassano 2032. Dal nostro punto di vista Cassano Magnago ha bisogno di un cambio di passo e quindi abbiamo cercato di creare una squadra che possa portare delle nuove energie e delle nuove competenze alla politica cassanese. Nel programma, percorsi ciclabili che agevolino il collegamento tra centro scuole e palestre, eventi in piazza a sostegno del commercio, un punto d'incontro per giovani nella ex fornace di Sant'Anna e uno per neomamme nonché una casa albergo per gli anziani. Un posto dove gli anziani potranno vivere e mantenere la propria autonomia ma nel frattempo possono socializzare con gli altri anziani che vivranno a questo posto, potranno essere seguiti da degli esperti e continuare a vivere la loro anzianità all'interno di questa struttura. E ancora più decoro, più attrattività. Allora, in cima al programma noi abbiamo messo il decoro urbano perché abbiamo notato proprio che in questi ultimi anni la città è un po' trascurata, si trovano spesso in giro dei rifiuti, anche le zone di socialità non sono ben mantenute e quindi dal nostro punto di vista l'abbiamo messo in cima al programma perché vogliamo lavorare proprio per rendere una Cassano molto più bella e dove le persone possano trovare degli ambienti confortevoli e dove possano socializzare. Infine, la sostenibilità. Un altro punto del programma sono le comunità energetiche che è un metodo per far risparmiare i nostri cittadini sui costi dell'energia elettrica. Sono iniziative nuove che stanno partendo in questi mesi ma che Cassano Magnago non può lasciare indietro perché veramente può far guadagnare e risparmiare dei soldi all'intera comunità. La politica dell'ascolto, una buona pratica che può giovare e molto alla salute dell'impresa. Se ne parla domenica a Varesi Rosa. A me piace molto citarlo perché lo ritengo un ottimo strumento il libro di Simon Sinek, Il gioco infinito dove parla Sinek del manager come manager infinito. Il manager infinito è quella persona che riesce a questa capacità di rigenerarsi, di ristrutturarsi, quindi di essere flessibile davanti al cambiamento e davanti alle difficoltà stesse, quindi in un mondo più complesso e più complicato se il manager è capace di uscire dai propri schemi mentali, quindi guardare ad altre opportunità, aprire il cambiamento come ad opportunità e quindi è molto più capace di guidare il gruppo su questo team, su questa strada e ad affrontare meglio quelle che sono le difficoltà, le criticità, soprattutto appunto ritornando in un periodo storico per le aziende così difficile. Quindi ecco perché usare delle metafore come il gioco del baskin, la diversità nel baskin oppure la musicoterapia servono semplicemente per comprendere come ci sono altre modalità di essere manager, quindi diversamente manager è proprio la capacità di leggere delle modalità diverse dalle proprie, di ristrutturarsi in questo senso. Un'iniziativa davvero inedita, curiosa, che mette insieme sostenibilità, impegno sociale, solidarietà, educazione e cultura. Da oggi un hotel per le api è stato infatti ufficialmente aperto, lo diciamo tra virgolette, in quel di Varese. Un hotel che protegga le api dando loro riparo, nutrimento e calore. Nasce a Varese su impulso del Rotary Club e sostegno dell'amministrazione comunale e si trova nell'area di Via Copelli che accoglie l'assessorato all'ambiente e che dà così avvio a un'iniziativa ecologica, educativa e solidale. Generalmente quando si parla di api si pensa subito all'ape da miele, quindi l'ape che produce il miele e la cera. In realtà ci sono al mondo più di 20.000 specie di api, in Italia addirittura sono circa 1.000 ormai classificate. Queste api non fanno miele, non fanno cera, ma sono assolutamente importanti per l'infollinazione. Hanno addirittura una capacità di impollinazione da 7 a 10 volte superiore a quella dell'ape da miele. Le api solitarie, così vengono chiamate, troveranno un ambiente idoneo a garantirne la sopravvivenza con tanto di fiori e piante di cui preziosi insetti sono golosi. Il progetto ha degli aspetti sia di economia circolare perché le casette sono costruite con legni di recupero. Ma come accennato il valore aggiunto è educativo e sociale, visto che il ronzante hotel Varesino è frutto del lavoro di precisione svolto dai ragazzi del CFPIL, centro dell'agenzia formativa che si occupa di giovani con disabilità. Siamo soddisfatti del lavoro e sfieri. Il bio hotel di Varese, precisano da Rotary, non va inteso come esempio isolato, bensì come apripista, uspicabilmente esportabile. Queste casette sono state realizzate secondo criteri ben specifici, sui siti, nei siti agrari. Se ne trovano di tanti tipi che sono bellissime da vedere, molto decorative ma poco funzionali. Per essere funzionali devono avere determinate caratteristiche. Inoltre devono avere una manutenzione periodica di cui il Rotary si farà ovviamente carico, proprio per evitare che si formino parassiti, funghi che possano essere più dannosi che utili agli insetti. Quindi per chi fosse interessato noi abbiamo una pagina Facebook che è Rotary B-Hotel sulla quale potete trovare numerose informazioni, potete chiedere informazioni eventualmente per realizzare un B-Hotel nelle vostre case. Una giornata riciclona domani a Capolago tra le 15 e le 17 al circolo della frazione Varesina. Potrete consegnare i vostri abiti usati, a patto che siano in buone condizioni, ma anche libri, strumenti per i lavori casalinghi, componenti informatiche, pc usati e tanti tanti altri oggetti che andranno a buon fine. Costruzione di una biblioteca per il rione di Capolago, ma anche mano tesa ai bisognosi. Insomma fatevi avanti, in cabina regia c'è la cooperativa Capolago. Invece andiamo all'arte con la mostra di Marzia Milani. Ieri una giornata a cortile Baroletto, da oggi fino al 19 giugno opere in vendita a fini benefici alla libreria Ubic. La cifra artistica di Marzia Milani sono questi fiori variopinti e generosi, sembra quasi di avvertirne il profumo o di vederli muoversi scossi dal vento. E poi la città di New York, la seconda casa, l'amato rifugio che accoglie, distrae e protegge lei e il marito Paolo, avvolgendo entrambi col manto sinuoso dell'immensamente grande che si fonde con la piccola intimità. Quest'anno inoltre, nella carrellata di opere esposte nel cortile Baroletto di Varese e da oggi, al 19 giugno, disponibili al primo piano della libreria Ubic, Marzia ha aggiunto le nevicate dello scorso inverno, uno strato candido immacolato che attutisce ovatte uniforme in attesa del cambiamento. I dipinti, riuniti nella mostra intitolata Farmenti, sono in vendita a scopo benefico. Una parte del ricavato sarà infatti destinata all'associazione Rocco Magnoli per i malati di mieloma multiplo. Abbiamo aperto questo Tg parlando delle prospettive biancorosse, cioè la possibilità che il città di Varese giochi in serie C. Se ne parlerà anche nel nostro bianco-blu in onda stasera dal punto di vista della Propatria. Ecco un'anticipazione. Il 13 sarà, quindi lunedì, sarà la data decisiva dove Patrizia Testa si è impegnata a riprendere la Propatria e poi da lì in poi vedremo come ridistribuirà le quote. Infatti essendo all'interno del Consiglio Comunale di Busto, Patrizia Testa non potrà avere più del 25%, quindi in questo momento lei ha già il 10%, andrà a riprendersi anche il restante 90% che poi andrà ridistribuito con i suoi compagni di viaggio i nomi che sono usciti appunto di Saratosi, di Cerrone e sono confermati, non confermate invece quello di Alberti che sembra che si sia sfilato. Le squadre a rischio sono nel nostro girone La Trestina, nel girone B Limolese e nel girone C il Teramo. Con la Regina ci sarebbero quattro posti da andare a riempire, perché a Varese si parla tanto di ripescaggio, si sta cercando anche di interessarsi col Comune per sistemare lo stadio che deve essere a norma per i parametri della Serie C, però c'è una graduazione di ripescaggio delle squadre che hanno vinto i playoff, la possiamo vedere, e in questo caso Lentigione ha già detto che non presenterà domanda, il Pogibonsi, la Cavese, la Clodiense li vedo molto difficili, la Torres invece è entrata in classifica nella graduazione in settimana perché si è concluso solo mercoledì il girone della Torres con la finale Torres a Fragolese, ha vinto la Torres 2-1 e vedendo un po' le esultanze di tutti, secondo me c'è voglia di Serie C. La Casatesi, che ha vinto invece il playoff contro il Legnano, sicuramente non chiede ripescaggio, possiamo vedere. Ecco, la Clodiense, come diceva Andrea, ha fatto una conferenza stampa al Presidente, lo ha già escluso categoricamente, che chiede ripescaggio, l'unica potrebbe essere la Cavese. Perché diciamolo chiaro una volta per tutte quanto ci vuole per portarsi ai nastri di partenza per una squadra che chiede ripescaggio. Un milione e cinquantamila euro. Le ultime dal softball e dalle ragazze dell'area Vendors per voce del loro mister. Argenis Blanco, avevi chiesto alle tue ragazze una reazione soprattutto imbattuta dopo le difficoltà delle ultime settimane, direi che la reazione è arrivata, 13 valide in gara 1, ancora doppia cifra di valide anche in gara 2, avete battuto tanto oggi. Sì, sì, in realtà abbiamo mostro un po', non so se ti sei reso conto che abbiamo cambiato un po' di cose in line-up, abbiamo fatto un discorso all'inizio, lo sai che nel baseball, nel softball, quando ci sono questi momenti del slam, si cambiano delle cose, si cambia il turno in battuta, si parla un po' della psicologia dello sport, infatti venerdì che era il giorno del batting practice, non abbiamo fatto batting practice, non volevo vedere nessuno al campo a fare batting tea, a fare niente, era relax a casa, pensare a vedere, non so, netflix piuttosto che sport delle World Series degli Stati Uniti, è andata così, le ragazze abbiamo fissato 8 vali da partita e siamo andati oltre, picceo, defensa e battuta opportuna. Ecco, una giornata che vi tiene in corsa per il vostro obiettivo perché rimanete al passo del Forlì nel girone B con l'obiettivo di qualificare i primi playoff e magari come dicevi prima, anche puntare alla prima posizione. Certo, siamo arrivati a 12 vittorie, molto soddisfatto, le ragazze alla grande, penso che la grande squadra con la mentalità vincente sono quelle che si sollevano nel momento di difficoltà come abbiamo avuto noi e adesso penso che sabato è una partita importante contro la Alpianoro, una squadra che conosciamo, che è una squadra molto grintosa, che sta andando molto bene e penso che sarà una gran gara. È tutto anche per lo sport, vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci, buona serata.